Ciao a tutti, io sono Crysis e oggi siamo su un nuovo video, andiamo a giocare Slendrina The Cellar, è un gioco horror per smartphone e tablet, e credo che abbia a che fare un poco Slender, visto Slendrina, Slender, però visto la faccia che vediamo sullo sfondo, cominciamo, Cellar 1, 2, 3, partiamo dalla prima, e... Medium! Praticamente il gioco consiste in trovare 8 libri in giro per questo strano posto, credo sia una specie di cantina, un dungeon sotto terra, e praticamente trovando questi 8 libri possiamo uscire e salvarci da Slendrina, ecco, trovarli non sarà semplice, sono ovunque qua solo, e ogni volta che vai di Slendrina è uno spavento, perché lei arriva a jumpscare proprio nel muso, e... ok, cominciamo, vediamo un po', un libro! Perfetto, uno su otto! Ehi! 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 No, io non ci vado, ok, passiamo da un'altra parte, la musica! che c***o! Wuh! Puttana troia! Batta affanculo! Porta bloccata! Ok... si riuscì molto bene, magari qua la scorsa, non si può dire... c'è una chiave! prendi questa, questa, questa è la chiave, ok... posso guardarmi le spalle, perchè lei è ovunque, c'è... no, no, no... eeeh... boh... non è verifico, 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 non è verifico... che c***o era? ahhh... affanculo! ahhh... io lo so... nooo... così non va bene per me... quindi, cioè, è tutto imprevisto... una volta che giro un angolo, devo aspettarmela... ahhh... avete sentito? ahhh... maiala lei! dacci sua! d'affanculo! ragazzi, è veramente... disturbante questo è... che... per... ho ? che... ho che... non basta che cazzo mio dio il piano imparare a girare il piano per me spaventi un attimo la stanza con il sangue non vedo l'ora c'è un libro se questo dungeon è fatto a 3 settori dovremmo averlo complicato a questo punto libro siamo soltanto a metà siamo soltanto a metà c'è da fare altri due livelli di questo slendrino e poi altre due giochi non credo di riuscire a farcela guardarli tutti oddio guarda poi c'è un libro non c'è un cazzo non si fa più vedere eh britta stronza che pirla sono? che pirla sono? che pirla sono? non l'hai qua? oh 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 vuole tornare qua serve una chiave magnificione tu sei per te oh credo che abbia una chiave un libro niente 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 ma donna santa st sto devo andare adesso devo andare adesso niente 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 qua tornare via oh una chiave niente 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 Ehi, ma dov'è crema? Senti! Ce la sto facendo, siamo a 7 libri su 8, me ne manca soltanto uno E finalmente forse ce la farò Intanto devo ricordarmi la strada per l'uscita Secondo, è un'ora che sto girando qua sotto È un'ora Sono, è diventata una cosa snerbante, sono stanchissimo Oh! Sì, tutto sono stanco anche della sua faccia La sognerò anche stanotte, maledetta Oh, ma quanto puntana! Il senso non può andare in gita in un sotterraneo a farsi cassa di suolo Una chiave Che avevo un po' laggiù come l'ho ancora Ok Spero che la porta che aprirò, se riesco a uscirò a trovarla, riuscirò Il libro sia là dentro Lo spero tanto E voglio finire il gioco al più presto Io sono all'inizio Dammi il libro, fammi finire questo gioco, fammelo finire Non lo posso, no Basta Un'altra chiave Quindi c'è ancora una porta chiusa da qualche parte E' certo L'altro Che succede Mi sono rilassata Mi sono rilassata Il problema C'è ancora una porta Sobre l'ho Sì L'ho Se Sì It Via via, dobbiamo cercare una porta, c'è una porta a qualche parte, non ho ancora aperto. Quale? Sì, cazzo, sì! Via di qui, via! Dov'è l'uscita? Dov'è l'uscita! Lo vedi, lo vedi, lo vedi! Che cosa faccio a perdermi? È un'ora che sto girando in questo posto, e sapevo la memoria. Sì, 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 Vabbè, se lo ricordo, prende la natura di qua. Vai! Sì, 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 sì! abbiamo vinto soltanto il primo livello di slendrina ce ne sono ancora altre due in questo gioco e altri due giochi differenti a questo è stata una cosa assurda, orribile, bruttissima non voglio più farla concludo qua il video se vi è piaciuto mettete un like e un commento qua sotto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti